Da Ostia, dove il Movimento 5 Stelle ha scelto di celebrare Paolo Borsellino con una manifestazione per la legalità, è Francesco Duva ad aggiungere. Il PD in questo momento è vittima di arresti, di scandali. Il Movimento 5 Stelle invece è in prima linea per la legalità. Per questo siamo a Ostia e stiamo firmando apposta una carta con i cittadini per questo intento. Siamo deputati cittadini in mezzo ai cittadini.